Ti ricordo di entrare nel gruppo Telegram se ti serve un gruppo per scambiare, fare glitch o semplicemente fare raduni E di entrare anche nel canale Telegram per rimanere aggiornato su tutti quanti i video Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come ho detto dal titolo è tornato a funzionare il glitch dei peyote per avere RP infiniti solamente questa settimana Quindi come si fa? Semplicemente andate nella descrizione, andate sulla mappa dei peyote online che sono diversi da quelli della storia, ne trovate uno e ci andate davanti come sto facendo io Una volta che ci siete davanti semplicemente premete opzioni, una volta che avrete premuto opzioni dovrete semplicemente andare su online e poi su giocatori Una volta su giocatori dovrete cercare una persona a caso che abbia unisciti a partita, quindi come vedete li selezionate tutti quanti finché non trovate quello che ci ha unisciti a partita Se non lo trovate cambiate sessione, ma fidatevi che li trovate subito Quindi una volta che ce l'avete semplicemente cliccate su unisciti a partita sulla persona insomma che avete trovato in game Premete unisciti a partita e vi uscirà questo messaggio Su questo primo messaggio premete tante volte freccia destra, quindi non lo so, premete 4 volte freccia destra e poi lo accettate Una volta che lo avrete accettato dopo aver premuto diciamo 3-4 volte freccia destra Insomma vi farà un'animazione buggata e poi vi farà spawnare all'interno della lobby di attesa dell'attività di questa persona Ovviamente questa persona non la dovrete conoscere, è una persona totalmente a caso Domani sul secondo canale vi porto il metodo anche con amico, quindi se non volete fare con persone a caso ma è uguale Quindi una volta nella lobby di attesa semplicemente uscite come vedete dal video e respawnerete appunto in zona E come vedete vi da 5000 RP e l'abbiamo fatti in neanche un minuto, quindi come vedete è veramente semplicissimo Per ripetere semplicemente andiamo davanti al peyote, adesso vi faccio vedere un altro caso ovvero se spawnate con l'animale Esattamente come prima opzioni online giocatori, quindi selezioniamo unisciti a partita e come vedete ci uscirà il primo messaggio Premiamo 2-3 volte freccia destra e poi accettiamo il messaggio Anche in questo caso ci farà un caricamento buggato, una volta che l'avrete fatto attendete appunto di respawnare nella lobby di attesa Una volta respawnati nella lobby di attesa semplicemente esattamente come prima uscite fuori Una volta fuori se non spawnate con il vostro personaggio ma spawnate con un animale Come vedete dal video adesso una volta insomma che è finito il caricamento buggato spawnerò come un animale sotto mappa Dovrete semplicemente ripremere opzioni online giocatori Una volta su giocatori dovrete riselezionare insomma la persona di prima su cui avete fatto unisciti a partita Lo selezionate e accettate, se non lo ritrovate potete anche selezionare un'altra persona su cui fare unisciti a partita Una volta che l'avrete fatto semplicemente riuscite dalla lobby di attesa in cui vi farà rientrare E una volta fuori come vedete semplicemente avrete nuovamente diciamo 5000 rp anche se spawnerete più lontano dalla zona insomma dove si vanno i peyote Come vedete una volta respawnati da 5000 rp quindi ho 5000 rp in più sul rango Per ripetere ve lo faccio vedere un'ultima volta semplicemente riandate qui davanti Premete opzioni, andate su online, giocatori, selezionate un giocatore che abbia unisciti a partita Ci fate unisciti a partita, sul primo messaggio 3-4 volte freccia a destra e poi lo accetto Mi farà il caricamento, una volta che insomma mi avrà caricato all'interno della lobby di attesa dovrò semplicemente uscire Infatti vedrete insomma che questo qui sta vedendo che io entro esco e entro esco non capirà il motivo Comunque fa niente, è il miglior metodo in solo attualmente quindi approfittatene Una volta nella lobby di attesa esattamente come mostrato in precedenza uscite fuori con cerchio Una volta usciti fuori con cerchio respawnerete con un animale Se respawnate con l'animale semplicemente fate quello step in più ovvero andate su opzioni online, giocatori E rifate semplicemente un altro partecipa insomma alla sessione, un'altra unisciti a partita Come sto facendo io, accettate e insomma una volta dentro uscite nuovamente E poi potrete ripetere all'infinito insomma quanto vi pare Non c'è rischio ban quindi andate tranquilli quindi ovviamente però voi non esagerate Insomma io vi consiglio di non andare oltre che ne so al rango 120 se proprio volete esagerare Quindi una volta usciti come vedete dalla lobby di attesa potremo rifare il glitch tranquillamente Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se siete nuovi iscriviti al canale noi ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie